Ben trovati nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie Turca The Family. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Leila non avrebbe mai immaginato che la sera in cui suo marito veniva ucciso avrebbe segnato un punto di svolta così drammatico nella sua vita. Mentre cercava di rubare dalla cassaforte di Leila i soldi e i gioielli dei suoi bambini, Tolga è stato colto sul fatto. Ne è nata una colluttazione che ha visto Tolga riuscire a scappare con la refurtiva, dirigendosi verso uno stabile abbandonato. Da quel momento, l'uomo è stato ricercato sia da Ilias che dai Soikan per aver rubato il denaro destinato all'associazione di Alia. La caccia a Tolga. Il primo a trovare Tolga è stato Cian, ormai alleato con Ilias e sua figlia Serap nella loro missione di distruggere i Soikan. Tolga aveva tra le mani documenti che dimostravano gli affari illeciti di Alia, e Cian voleva usarli per mandare la famiglia in bancarotta. Decidendo di fare fuori il cognato, Cian lo fa cadere dal palazzo in costruzione. Il giorno dopo, il corpo senza vita di Tolga viene scoperto nel cantiere edile, e tutti i sospetti ricadono su Leila, soprattutto dopo che i vicini hanno assistito alla lite tra lei e Tolga. Leila in catene. Leila, sotto gli occhi impauriti dei suoi figli, viene prelevata dalla polizia. Disperata, chiede a Devin di prendersi cura dei suoi bambini e di non lasciarli finire nelle mani della suocera. Devin, che stava per divorziare da Aslan, è costretta a tornare a vivere nella tenuta per proteggere i figli di Leila. Il sacrificio di Aslan. Aslan, che crede nell'innocenza di sua sorella, è disposto a fare di tutto per farla uscire di prigione, tanto da decidere di sacrificare Samsar. Aslan chiede a Samsar di ammettere di aver ucciso Tolga, sperando che la detenzione di Leila abbia le ore contate. Tuttavia, Alia mette in atto un piano per far rimanere Leila dietro le sbarre più a lungo possibile. La perfida donna si mette in contatto con Melek, la compagna di cella di Leila, promettendole del denaro in cambio di una mossa disperata, a coltellare se stessa e dare la colpa alla povera Leila pochi minuti prima che quest'ultima fosse liberata. Adesso per Leila la situazione di complice se Melek muore rischia l'ergastolo. La vicenda di Leila è un intricato intreccio di vendetta, tradimenti e sacrifici. Solo il tempo dirà se la verità verrà alla luce, e se la giustizia trionferà.